e adesso c'è c'è un pezzo strepitoso eh tutti i programmi adesso che ci sono in televisione parlano di cibo e non potevamo sempre tutto intorno a quello è vero è vero e non potevamo non fare questo pezzo come no eh già allora è la più la trasmissione più famosa in televisione è Masterchef in tutto il mondo ma noi ne abbiamo fatta una versione un po' più satirica anzi più strong ecco a voi Masterchef facciamo entrare il nostro giudice facciamo entrare giudice la prima sfidante vediamo un po' che cosa ha preparato cosa mi hai portato ho preparato pasta al sugo pasta al sugo certo tu ti sei spregata per fare questo piatto eh questo piatto da lontano fa schifo da vicino fa cagare hai cucinato sotto tortura eh tua madre quando eri piccola ti ha fatto mancare l'affetto no chef guarda questo piatto tu cucini in famiglia si chef quante persone hai mandato all'ospedale al cimitero nessuno tu guarda questo piatto guardate guardate questo piatto tu lo faresti mangiare a tua madre questo piatto si la odi così tanto tua madre no lo sai cosa fa mio cane per chi fa questo piatto mio cane viene a casa tua suona la porta tu gli apri e lui ti piscia su una gamba se io se io sopravvivo a questo piatto mi devono fare beato papa francesco scende in piazza mi fa beato adesso gli assaggia io muoro se mangia questo piatto vedi quella porta la c'è il demonio che aspetta di prendermi e io sono anche contento perché guardate questo piatto normale questo neanche soldati mangiano questo piatto in afghano ecco 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 guarda come porti sfortuna te schifosa schifo vuoi che muoro vuoi che muoro schifosa tua madre da piccola ti lanciava in aria e poi non ti riprendeva no no chef tua nonna per sbaglio talmente rincoglionita che dentro al biberone ti ha messo l'alcol e sei cresciuta così no chef sei stata allevata con le scimmie come tarzan no guarda che schifo sai che succede se io butto piatto dentro la discarica la discarica si scansa per quanto fa schifo piatto guarda io ti do giudizio alla gol remsi lui è mio amico sai perché mio amico perché lui sputtana gli chef io ho grande stima di lui allora ultimo giudizio poi per favore sparisci 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 tu va via questo piatto è uno sbaglio come tu sei uno sbaglio come quando i tuoi genitori volevano un essere umano e sei uscito da te va saluta